Ciao a tutti ragazzi, io sono Verges of the Game Tonight e benvenuti in questo nuovo video. Oggi recuperiamo il Deck Build Pack Amazing Defenders. Che cos'è questo Amazing Defenders? È un set dove escono tre archetipi nuovi. In un passato di giornale avevamo visto semplicemente gli artwork dei monster principali, degli Ace Monsters, di questi tre mazzetti, non sapevamo nulla. E adesso conosciamo il primo mazzo che è stato presentato, ovvero Rescue Ace. Quindi ragazzi, andiamo subito a vedere questo mazzo, a leggere che cosa fa e a valutarlo, se sarà meta oppure meme. Abbiamo questo bellissimo Rescue Ace. Inizialmente noi conoscevamo soltanto questo coso qua, adesso conosciamo tutto l'archetipo. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. Rescue Ace Impulse, livello 3, fuoco guerriero, mostro con effetto. 1.500 di attacco, 1.500 di difesa, primo e secondo effetto, hard ones per turn. Primo effetto, durante la tua main phase puoi rendere un mostro con effetto che il tuo avversario controlla con l'attacco superiore. Se hanno lo stesso attacco, scegli tu. Impossibilitato ad attivare i suoi effetti fino alla fine di questo turno. Ok, però durante la tua main phase poteva essere meglio come effetto rapido, ma va bene così. Secondo effetto, quando il tuo avversario attiva un effetto di mostro sul terreno, effetto rapido, puoi offrire come tributo questa carta dalla tua mano o terreno di costo per evocare specialmente un mostro macchina Rescue Ace dal tuo deck. Mica male il secondo effetto, molto 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 interessante. Il primo è carino in ottica di going second, quindi secondo me è promosso questo mostro, assolutamente veramente forte. Poi abbiamo Rescue Ace Air Hoister, livello 4, fuoco, guerriero, mostro con effetto, 1.7 di attacco, 1.7 di difesa, primo e secondo effetto, hard ones per turn. Primo effetto, su normal o special possiamo dare una carta magia Rescue Ace dal deck alla mano, che ci sta, un sercino interessante. Secondo effetto, quando il nostro avversario attiva un effetto di mostro sul terreno, effetto rapido, possiamo tributare questa carta dalla nostra mano o terreno di costo. Evochiamo specialmente un mostro Rescue Ace dalla nostra mano, eccetto lui stesso. Quindi lui evoca dal deck e lui evoca da mano. Ok, carino, simpatico, ci sta. Più forte è questo secondo me, però il primo effetto di lui è veramente molto forte perché ti permette di serciare la magia. Bisogna vedere che cosa fanno le magie, però comunque ci sta. Poi abbiamo Rescue Ace Hydrant, livello 1, fuoco, macchina, mostro con effetto, 0 di attacco, 0 di difesa, secondo e terzo effetto, una volta per turno. Primo effetto, il nostro avversario non può targhettare questa carta con attacchi o con effetti di carte, mentre controlliamo un mostro Rescue Ace, eccetto lui stesso. Quindi abbiamo lui più un altro Rescue Ace, non può essere targhettato da effetti o da battaglia. Secondo effetto, puoi attivare una magia rapida o trappola nel turno in cui è stata settata da un effetto di una carta Rescue Ace, va bene, di una tua carta Rescue Ace, perfetto, forte. Altro effetto, durante la tua main phase puoi aggiungere un mostro Rescue Ace dal tuo deck alla tua mano, eccetto lui stesso. Quindi lui in combo con lui è veramente carino perché lui ci adda un mostro Rescue Ace e lui ce lo evoca special, quindi può essere interessante anche se lui lo fa da solo praticamente, ma va bene così. Poi abbiamo Rescue Ace Fire Attacker, livello 6, fuoco, macchina, mostro con effetto, 0 di attacco, 0 di difesa, 1 e 2 effetto, R1 per turno. Primo effetto, se uno o più mostri Rescue Ace, eccetto Rescue Ace Fire Attacker, vengono evocati normalmente o specialmente sul tuo terreno, puoi evocare specialmente questa carta dalla tua mano. Ok, carino, extender, simpatico. Secondo effetto, se uno o più carte vengono aggiunte alla mano del tuo avversario, eccetto pescandole, puoi pescare due carte e si sente mandare una carta dalla tua mano al cimitero. Quindi il tuo avversario fa, per esempio, un normal candina effetto, aggiungo, tu hai diritto ad attivare il suo effetto, pescare due e scartare una. Fortissimo, fortissimo, assolutamente fortissimo, peschino di archetipo, wow. Poi abbiamo Rescue Ace Fire Engine, livello 7, fuoco, macchina, mostro con effetto, 0 di attacco, 0 di difesa, primo e secondo effetto, R1 per turno. Primo effetto, se uno o più mostri di Rescue Ace, eccetto lui stesso, vengono normalati o specialati sul tuo terreno, puoi evocare specialmente questa carta dalla tua mano. Forte, molto forte, è tutto un extender sto mazzo, veramente molto forte, non ti locca, wow. Secondo effetto, se uno o più mostri vengono evocati specialmente sul terreno del tuo avversario, puoi evocare specialmente un mostro di livello 4 o inferiore Rescue Ace dalla tua mano, deck, o cimitero. Ok, ok, questo è veramente forte, questo è veramente molto, molto, molto forte, molto, molto, molto interessante. E poi abbiamo Rescue Ace Turbulence, lui che è stato presentato inizialmente. Nivello 9, fuoco, macchina con effetto, 3.000 d'attacco, 3.000 di difesa, è McCittadella, lui, palese, è bellissimo. Primo e secondo e terzo effetto, R1 per turno. Primo effetto, puoi bandire due carte Rescue Ace dal tuo cimitero di costo, evoca specialmente questa carta dalla tua mano. Praticamente è più semplice da evocare rispetto a McCittadella, però lui non si evoca dal cimitero, quindi si evoca solo da mano. Però comunque va bene, un extender è forte, ci sta. Secondo effetto, durante la tua main phase puoi settare fino a 4 carte Magia Rapida e o trappole normali Rescue Ace con nome diverso direttamente dal tuo deck. Bacca boia, sta cosa è distruttiva proprio. Impressionante. Terzo effetto, se un'altra carta o più che controlli lascia nel terreno l'effetto di carta, puoi targettare una carta sul terreno e distruggila. Porca troia, è un boss monster proprio boss 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 sto coso, mamma mia, fortissimo. Magia terreno, Rescue Ace Headquarters. Magia terreno, primo effetto, i mostri di Rescue Ace che controlli guadagnano 500 di attacco e difesa mentre il tuo avversario controlla un mostro. Va bene, non deve essere per forza un mostro, puoi anche controllarne 4, comunque hanno tutti più 500 i tuoi. Secondo effetto, durante la tua main phase puoi evocare normalmente un mostro Rescue Ace in addizione alla tua evocazione normale o per scoperta. O settare, insomma, mettiamola così. Puoi utilizzare questo effetto una volta per turno. Va bene. Terzo effetto, una volta per turno puoi targettare fino a 4 carte Rescue Ace che sono bandite e o nel cimitero, le nemizie nel deck e peschi una. Porca troia. Le stesse 4 te le risetti di lui. Fortissimo, va bene. E poi abbiamo Rescue, magia rapida, immagino che siano un po'. Ah no, sono due magie rapide e due trappole. E poi c'è Gizmec Naganaki come reprint. Va bene. Rescue, Quick Play, quindi magia rapida. Viene sempre considerata come una carta Rescue Ace. Puoi attivare una carta con questo nome una volta per turno. Prima effetto, scegli come bersaglio un mostro Rescue Ace nel tuo cimitero. Oh, se controlli Rescue Ace Hydrant puoi targettare un mostro nel cimitero del tuo avversario invece. Evocalo specialmente sul tuo terreno. Ok, forte. Veramente molto molto forte. Questa la possiamo paragonare più o meno ad un Shark Cannon, solo che non vuole bannare, vuole direttamente evocare. Va bene così. Alert, seconda. Magia rapida. Vabbè, sempre considerata come Rescue Ace. L'effetto dice che aggiungi un Rescue Ace Monster dal tuo cimitero alla tua mano. Oh, se controlli un Rescue Ace Hydrant, e Hydrant sarebbe quello... sì, livello 1, ok. Puoi aggiungere un mostro Rescue Ace dal tuo deck alla tua mano invece. Ok. Simpatico. Molto 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 carino. Si basano su Hydrant. Va bene così. Poi abbiamo le trappole. Contain, trappola normale, perché deve essere settabile dal mostro grosso. L'effetto dice che se controlli un mostro Rescue Ace, puoi targettare un mostro con effetto che il tuo avversario controllo. Non può attaccare, i suoi effetti sono legati. Inoltre, se controlli Rescue Ace Hydrant, non può essere utilizzato come materiale per fusione Syncrixis o Link. L'effetto vale fino alla fine di questo turno. Ok. Molto molto forte anche questo. Ci può stare, sì. Carino, veramente carino. E poi abbiamo Extinguish. Trappola normale. È sempre considerata come una carta Rescue Ace. Se controlli un mostro Rescue Ace, puoi targettare un mostro con effetto che il tuo avversario controlla e distruggilo. E se controlli un Rescue Ace Hydrant, in questo turno il tuo avversario non può attivare l'effetto di mostri che hanno lo stesso nome del mostro distrutto. Lo stesso nome originale del mostro distrutto. Allora, il mazzo è molto interessante. Secondo me è molto carino. E secondo me è anche molto valido, c'è da dire. Potrebbe potenzialmente essere un mazzo meta. La cosa del settare 4 è veramente forte. Il punto è che gli servono di supporti in più, ovvero delle magie e trappole in più che facciano delle lock molto più interessanti o delle cose carine, insomma. Perché, sì, tu setti quelle 4, però al momento le opzioni che hai sono veramente poche. E quelle 4, a parte veramente, a parte un paio, sono veramente mediocre, mettiamola così. Quindi, al momento il mazzo si nota che è incompleto, ovviamente, si nota che deve avere ancora supporti. Lo sappiamo tutti che riceverà supporti. Quindi, per il momento, io lascio la parola alla Konami. Vediamo che cosa realizzerà come supporti per questo mazzo. Vi ricordo che sicuramente un supporto arriverà in Amazing Defenders. E poi altri supporti arriveranno nei prossimi set. Quindi, penso già, dal set post Darkwing Blast arriverà un supporto per uno di questi mazzi che viene presentato qua. E penso che a questo punto Rescue Ace possa essere il primo che verrà supportato. Perché è stato il primo ad essere presentato. Letto questo, ragazzi, secondo me è un mazzo assolutamente meta. Perché ha troppo potenziale, secondo me, troppo, veramente troppo potenziale. Molto forte. E niente. Signori, ditemi qua sotto che cosa ne pensate. Noi ci vediamo, come al solito, con un prossimo video. Nei prossimi giorni. Ciao, ragazzi.